Transenne, ingressi scalionati al mercato settimanale in piazza Duomo e in piazza Cavalli. Numero di clienti limitato per garantire la distanza di almeno un metro. Mascherine per addetti e clienti. Per toccare certi articoli sono richiesti anche i guanti e usigetta. Non so così dire, vedremo, vediamo la nuova esperienza. Il mercato se vanno avanti con queste restrizioni qua è destinato a sparire. Qua siamo blindati, non so se vede ma è tutto chiuso. Da una parte ci sta perché il pericolo c'è ragazzi. In dubbio per noi è chiaramente un piccolo danno, però ci sta tutto, ci sta bene, va bene così. Le attività di commercio al dettaglio che attraggono molti clienti possono essere necessarie particolari misure. Girano tra i banchi molte raccomandazioni, anche con qualche cartello segnalettico. Relativamente meglio, però contingentato, però si spera di ritornare alla normalità. Potrebbe essere una cosa giusta secondo me, sì, perché settimana scorsa ho fatto un giro ed c'era troppa gente, infatti sono andata via. I mercati settimanali hanno rappresentato sempre e da sempre un momento importante, sia di incontro sia di attività economica. Tutti d'accordo, i cambiamenti e le restrizioni sono inevitabili. Le regole sono tante e speriamo che possono portare buon fine. Meglio con le transenne che niente mercato, quello che dico io. Il mercato è sicuro, il mercato è all'aperto, siamo distanziati di almeno due metri e mezzo, dobbiamo lavorare. Vietato scavalcare le transenne, una nota del comune di Piacenza, gli avventori uscire senza indugio dall'area mercatale. Stesse regole, piazza Duomo, piazza Cavalli, ma anche Farnesiana, Besurica, Mercato Contadino. La polizia locale con alcuni volontari guidano l'osservanza. Pensavo di peggio, avevo una gran paura di misure più drastiche, dice un commerciante. Grazie. 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 Grazie.